Allora porto anche i saluti del professor Stella che sta finendo gli esami e dopo però o si collega o senz'altro ha detto che riguarderà tutta la lezione. Io brevemente prima di passarle la parola e di passarla prima ancora a Emanuela che la presenterà rapidamente visto che siamo anche collegati con un pubblico che non sta seguendo il master perché abbiamo deciso quest'anno di aprire alcune iniziative del master anche così un po' a tutti non solo ai dottorandi della nostro dipartimento ma anche proprio a un pubblico più grande. Perché insomma questi anni di pandemia ci hanno insegnato che condividere certe esperienze forse è anche una cosa positiva e quindi anche noi in tal senso ci stiamo muovendo. Io ruberò davvero solo un minuto per comunicare a tutti quelli che si sono collegati che questa è la lezione inaugurale della nostra tredicesima edizione del master informatica del testo e edizione elettronica. E' uno dei master più antichi in Italia che tratta questo argomento noi formiamo persone che poi andranno a lavorare o nei centri di ricerca nazionali e internazionali con cui siamo convenzionati per gli stage o come operatori legati all'editoria nelle case editrici o comunque in ambiti che hanno a che fare con archivistica biblioteconomia ed editoria sempre di ambito digitale. Ringrazio davvero di nuovo il nostro relatore e il professor Roncaglia per aver accettato questo invito e ringrazio moltissimo anche Emanuela Carbet per aver organizzato la serata e le passo la parola per la presentazione del nostro relatore. Grazie. 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 Grazie a tutti e ringrazio tutti coloro che si sono collegati e le nostre studenti del master. Siamo particolarmente felici di avere Gino Roncaglia qui come per la sua lezione inaugurale e Gino Roncaglia non ha bisogno di molte presentazioni. presentazioni è un filosofo, saggista, è professore all'Università di Roma 3 dove insegna editoria digitale e digital humanities e ha lavorato a lungo all'Università della Tuscia dove ha anche fondato il primo master italiano dedicato all'e-learning. è autore di saggi molto noti, cito soltanto l'età della fermentazione, cultura del libro e scuola digitale che è uscito per la terza nel 2018 e nel 2020 ha avuto una nuova edizione ampliata molto interessante in piena pandemia in cui ha aggregato al capitolo un capitolo dedicato intitolato cosa succede a settembre che era anche diciamo un ebook indipendente uscito in quei mesi. È adatto a mio avviso e non solo a mio avviso una delle più equilibrate e lucide risposte ai problemi che sono sorti e che forse c'erano anche prima ma che diciamo abbiamo visto sotto gli occhi tutti quanti in questi anni in cui abbiamo dovuto affrontare la didattica a distanza e non solo. e cito anche sempre andando molto velocemente un altro volume molto importante, la quarta rivoluzione, sei lezioni sul futuro del libro, uscito sempre per la terza nel 2010. Questa è stata una settimana molto bella qui a Siena, lunedì è iniziato il master, abbiamo avuto come ospite Franco Moretti che ha presentato il suo ultimo volume che ripercorreva i suoi studi di analisi quantitativa. Oggi finiamo diciamo la settimana in bellezza con Gino Roncaglia e Moretti nel suo volume aveva scritto che forse le discipline umanistiche sono state un po' prese alla sprovvista dagli archivi digitali e dalla grande massa di dati a disposizione negli ultimi anni. e io credo che studiosi come Moretti e studiosi come Gino Roncaglia sono coloro che non sono stati in realtà presi alla sprovvista e che da molti anni stanno lavorando con molta lucidità e anche con concretezza nell'interpretazione delle trasformazioni del digitale. Gino Roncaglia è un saggista che va letto anche perché non solo per quello che dice ma anche per come lo dice per la chiarezza della sua esposizione di cose e oggetti complessi e quindi della sua capacità di non rinunciare mai alla complessità pur cercando di mostrarla a pubblici differenti e con una una diciamo complessa semplicità e quindi sono particolarmente siamo particolarmente contenti della sua presenza lo ringraziamo la lezione di oggi si intitola Libri e lettori tra carta e digitale le lascio e gli lascio senz'altro la parola aggiungendo solo che alla fine di questo incontro anche coloro anche coloro che ci stanno seguendo online e da YouTube potranno insomma intervenire tramite la chat che riporteremo senz'altro poi nella stanza di Webex. Grazie mille. Grazie, grazie per la presentazione, grazie per l'invito. Mi fa molto piacere essere con voi anche se solo virtualmente per parlare di un tema che forse per prima cosa possiamo interrogarci sul rapporto che c'è tra il tema Libri e lettori e un Master che lavora sulla testualità, sulle forme della testualità, naturalmente i libri sono testi, sono un tipo particolare di testi, torneremo su questo tra un istante, il tema dei lettori invece molto spesso è lasciato un po' da parte quando si lavora nel campo della testualità, della informatica testualità, della informatica testualità e invece io credo un tema abbastanza centrale, basta ricordare il titolo di un libro famoso di Umberto Eco, Lector in Fabula, per ricordare quanto sia rilevante il ruolo del lettore anche nello stabilirsi delle forme della testualità. Anche su questo cercherò di tornare tra un minuto. Quando parliamo di testi, di libri, di lettori, di autori, c'è sempre un po' appunto la Sacra Trinità Autore-Testo-Lettore che ci ricorda anche che un libro, un testo, è sempre anche un atto comunicativo, perfino un testo non destinato a un pubblico esterno o a una pubblicazione, è in un certo senso un atto comunicativo dell'autore verso se stesso. E ci può ricordare subito modelli famosi del processo comunicativo come quello di Shannon Weaver o ancora di più in questo contesto, quello proposto da Ronald Jacobson. E tuttavia questi modelli, tutti questi modelli, che pure naturalmente affiancano alla Trinità iniziale, anche tutto un insieme di elementi di corredo, hanno spesso qualche cosa di astratto, nel senso che si interrogano soprattutto su alcune funzioni, la funzione autoriale, la funzione del lettore, ma poi quando andiamo a lavorare concretamente con singoli testi, con singoli libri, abbiamo a che fare con autori in carne e ossa, abbiamo a che fare soprattutto con lettori in carne e ossa che sono tanti, che sono molto diversi, che leggono per motivi diversissimi, in contesti, in situazioni molto diverse, ecco che ci accorgiamo che a volte, come dire, i modelli teorici faticano a seguire la complessità dell'universo e del mondo reale. E allora forse può valer la pena riflettere un momento proprio su questi aspetti, e in particolare sulle varie forme in cui noi leggiamo dei testi. C'è molto lavoro in questo periodo sulla lettura, lavoro che forse possiamo provare ad articolare in alcune grandi categorie, ci sono molti lavori che sono in qualche forma, e ci sono sempre stati, delle apologie della lettura, cioè testi che spiegano quanto sia importante e perché sia importante leggere, testi naturalmente nobilissimi, spesso anche molto belli, forse in un certo senso di meno diretto interesse accademico, ma è una produzione copiosa che in un certo senso c'è sempre stata, quella delle apologie della lettura. Poi ci sono le storie della lettura, anche qui c'è una produzione copiosa, il modo in cui facciamo storia della lettura è cambiato nel corso del tempo, si potrebbe collegare la storia della lettura, considerare la storia della lettura come un caso particolare, un esempio particolare di storia culturale, e per esempio Peter Burke nel suo libro sulla storia culturale inserisce in questo contesto le storie della lettura, si potrebbe vedere come si sono sviluppate le metodologie, come si sono sviluppati i punti di partenza di chi lavora sulla storia della lettura, e anche questo è un campo naturalmente molto interessante, che poi si può articolare anche in periodi in epoche diverse, e ci sono molti lavori che guardano da un punto di vista quantitativo ai dati sulla lettura, soprattutto dal punto di vista dei dati legati al mercato editoriale e alle abitudini di lettura. Noi sappiamo che l'Istat fornisce annualmente, insieme a tantissime altre tipologie di dati, dei dati che riguardano il mondo del libro e della lettura, che altri dati di questo genere sono raccolti per esempio dall'Associazione Italiana Editori, e anche in questo caso c'è una letteratura specifica che analizza questi dati e cerca in qualche modo, sono dati spesso abbastanza complessi da analizzare, magari avremo anche occasione di toccare alcuni di questi temi e cerca in qualche modo di analizzare questi dati, e questo è un altro filone di ricerca molto attivo. C'è poi un quarto filone di ricerca, che è quello su cui più specificamente io mi vorrei soffermare nella lezione di oggi, che è quello dello studio della lettura dal punto di vista del come leggiamo, che è uno studio che ha una componente chiaramente anche di studio empirico, in che forma lettori diversi, in contesti diversi, si rapportano con dei testi e fanno questa azione per molti versi complicata come l'azione della lettura, e anche naturalmente degli aspetti che possono essere collegati a tante altre sfere di ricerca, per esempio negli ultimi anni è stato molto interessante il lavoro che è stato fatto dal punto di vista delle basi neurologiche della lettura, in che modo, il cervello che leggere, per prendere il titolo di un libro di grande interesse, l'analisi di come il nostro cervello ha imparato a leggere. Noi sappiamo che il linguaggio inteso come linguaggio verbale è qualcosa che la specie umana possiede dall'inizio, in qualche modo, l'homo sapiens ha la capacità di utilizzare il linguaggio in qualche modo iscritta nel proprio cervello e sappiamo che basta l'esposizione al linguaggio per far sì che si sviluppino delle capacità linguistiche a livello di linguaggio verbale, mentre questo non è affatto vero per la scrittura e per la lettura. La scrittura e lettura sono molto più recenti, sono delle conquiste molto più recenti nella storia dell'evoluzione umana. Abbiamo imparato a scrivere 3-4 mila anni fa, in maniera probabilmente su un periodo abbastanza lungo, una delle teorie più accreditate oggi sull'origine della scrittura, collega l'origine della scrittura, i clay tokens, i contrassegni, i marcatori d'argilla che venivano utilizzati per gli scambi commerciali nella Mesopotamia appunto 4, 5, 6 mila anni fa che progressivamente sviluppano dei sistemi di segni più sviluppati, che progressivamente si aggregano nelle cosiddette bulle d'argilla che permettevano di mettere insieme, di combinare insieme più ciotoli, più contrassegni per dar conto di scambi più complessi. In ogni caso la scrittura e la lettura sono conquiste molto più recenti, sappiamo appunto dalle indagini sulla neurofisiologia della lettura e della scrittura che per scrivere, per leggere il nostro cervello ha bisogno di collegare fra di loro aree abbastanza diverse del cervello, che sono quelle che si occupano da un lato naturalmente del linguaggio, ma dall'altro anche del riconoscimento delle forme visive. Noi addestriamo dei neuroni che appartengono all'area della corteccia cerebrale, che riconosce le forme visive per riconoscere quelle particolari forme visive che sono le lettere dell'alfabeto e questo processo è un processo che richiede un addestramento specifico. Non basta essere esposti a dei segni scritti per imparare a scrivere o a leggere, serve un addestramento specifico abbastanza lungo e una componente importante dell'iter scolastico è legata proprio all'addestramento, alla lettura e alla scrittura. Quindi la scrittura e la lettura sono attività complesse e c'è anche il tema molto interessante di questo doppia veste, la veste scrittura e la veste lettura sono evidentemente scrittura e lettura strettissimamente intrecciate tra di loro, ma hanno anche la loro autonomia. Non è detto che la persona che legge i libri scriva anche i libri, anche se la pratica, il libro del cassetto è uno dei luoghi comuni più diffusi, però leggere è evidentemente una cosa comunque abbastanza diversa dallo scrivere. E dicevo prima, c'è a volte una certa astrattezza nel pensare alla lettura solo nelle sue funzioni. Perché? Perché se andiamo a guardare concretamente il modo in cui leggiamo, ci accorgiamo che ci sono tutta una serie di fattori importantissimi che sono fattori molto difficili da analizzare in maniera teoricamente solida. Per esempio le caratteristiche di quella che possiamo chiamare l'interfaccia di lettura. E qui cominciamo anche ad avvicinarci al tema della lettura e dei lettori nell'era digitale, in un contesto cioè in cui cambiano alcune interfacce di lettura. Il tema delle interfacce di lettura, le caratteristiche dei libri a stampa, le caratteristiche dei libri elettronici, anche questo è un tema su cui c'è moltissima letteratura. Molto spesso è una letteratura legata al confronto abbastanza estrinseco tra la lettura su carta e la lettura digitale o al confronto di meriti e demeriti della lettura su carta e della lettura digitale. Molti di questi lavori, c'è tanto che è stato fatto in questo campo, molti di questi lavori soffrono a loro volta un pochino di astrattezza perché tendono a considerare la lettura su carta e la lettura digitale come due macro-categorie ben individuate, ben differenziate. In realtà non è così. La lettura su carta avviene su tipologie di supporti, anche quando parliamo proprio di libri, e noi sappiamo che i libri sono una delle tipologie di testi che possiamo leggere, noi leggiamo tipologie di testi estremamente diversificate, anche quando leggiamo su carta, dai cartelloni pubblicitari alle istruzioni per l'uso di un elettrodomestico, oppure il bugiardino di un medicinale, articoli di giornale, articoli di rivista, oggi tanti testi anche in rete, di tipologie molto, molto diverse. Il libro, cheppure è abbastanza difficile da identificare come tipologia specifica, è una di queste tipologie di testi. E appunto leggiamo tante tipologie di testi diversi e le caratteristiche dell'interfaccia fisica di lettura, del supporto del testo, variano enormemente e influenzano la nostra lettura e molto spesso non sono adeguatamente studiate. Per esempio cerchereste in vano una letteratura un po' sviluppata, c'è qualcosina, ma sono cose minime, sulla differenza che c'è tra leggere un libro in una buona edizione rilegata e leggere un libro in una cattiva edizione in brussura, magari di quelle che si sfasciano un po' in mano. Ci sono delle differenze nella qualità della lettura, della memorizzazione a medio e lungo termine, della comprensione, se si scelgono interfacce anche semplicemente appunto fisiche di carte tradizionali diverse, presumibilmente sì, anche i pochi dati che abbiamo ci dicono di sì, ma questo è un aspetto che spesso è totalmente trascurato. Si parla di libri su carta come se il libro su carta fosse una specie di oggetto platonico, anziché una molteplicità di tipologie reali di oggetti fisici. E lo stesso vale per quello che riguarda la lettura digitale. Molte analisi, molte indagini e soprattutto anche molte meta-analisi, cioè quelle analisi che vengono fatte mettendo insieme tanti risultati di indagini diverse, che cercano di misurare la qualità della lettura su supporto digitale, mettono allegramente insieme tipologie di supporti digitali diversissimi, dallo smartphone, agli reader a carte elettroniche e inchiostro elettronico, ai tablet, ai computer. Queste tipologie di strumenti, e ciascuna di queste tipologie è cambiata nel corso del tempo, ha caratteristiche diverse anche evolutivamente, e capite che sono tipologie di strumenti molto diversi. Ed è abbastanza illegittimo, io credo, costruire una meta-analisi, per esempio mettendo insieme analisi che riguardano tipologie molto molto diverse di supporti digitali. senza contare che la stessa libro su carta oggi è in un certo senso un supporto per testi digitali. Noi sappiamo che i libri che vengono stampati oggi sono molto probabilmente scritti al computer, quindi in digitale dall'autore, revisionati, editati, lavorati in digitale dalla casa editrice, impaginati in digitale dalla tipografia, sulla carta arriva sostanzialmente un libro elettronico che viene appoggiato su un supporto cartaceo. Perde molte delle caratteristiche originali del libro elettronico, naturalmente, ma è un testo elettronico che molto spesso arriva sulla pagina stampa. E sappiamo anche, per esempio, che ci sono lavori tecnologici, all'MIT per esempio hanno lavorato sull'idea di schermi elettronici che usano la carta fisica come supporto. Quindi quella dicotomia apparentemente così ovvia, così scontata, preferisci leggere su carta o in digitale i meriti della carta, l'odore della carta, i problemi e i meriti del digitale, in realtà andrebbe poi scomposta in una pluralità enorme di situazioni concrete e di casi concreti diversi. e questo riguarda l'interfaccia di lettura che ha appunto caratteristiche fisiche, ha caratteristiche funzionali, pensiamo a quanto può influire nella qualità, per esempio, della lettura di un libro elettronico, non solo il tipo di supporto fisico, quindi la tecnologia di schermo, ma anche, per esempio, l'impaginazione tipografica, la tipografia digitale, quanto influiscono le funzionalità del software di lettura. Permette o non permette annotazioni? In che modo? In che forme? Quanto siamo sicuri che le annotazioni che prendiamo su un dispositivo digitale poi restino con noi anche in futuro? Ci sono casi famosi, la Sony ha lanciato alcuni anni fa un dispositivo di lettura digitale con stilo, molto comodo per prendere annotazioni, che poi è stato abbandonato nel corso del tempo e tutti i testi che si leggevano su quel dispositivo sono ancora leggibili perché i formati, per fortuna, hanno in genere la capacità, se non altro, di poter essere convertiti da un formato all'altro, ma per quello che riguarda le annotazioni, questo è molto meno scontato, tutto il campo, per esempio, degli standard di annotazione, per quello che riguarda dei libri di lettura normali, poi sappiamo che questo tema degli standard di annotazione riguarda anche tante altre situazioni in cui è utile annotare o marcare testi, ma il tema degli standard in questi campi è un tema naturalmente importante. Noi abbiamo standard di marcatura ben conosciuti, ben affermati, che si portano dietro alla loro grammatica, alla loro documentazione, quindi siamo abbastanza sicuri che saremo in grado comunque anche in futuro di lavorare con testi marcati utilizzando questi standard, ma questo non vale, per esempio, per i formati di sottolineatura fatti con lo stile il pennino è uno schermo elettronico, proprio le sottolineature, le marcature di testo libero, se non le salviamo come fa il PDF, e non tutti i programmi permettono di farlo, la questione della sopravvivenza nel tempo delle nostre notazioni, è tutt'altro che banale. Allora, vedete che già intorno semplicemente alla questione del supporto fisico e delle interfacce software per la lettura, c'è già un insieme di problemi tutt'altro che banale. E lo stesso vale se noi andiamo a considerare un altro aspetto che è rilevante, anche se non è, forse in molti casi, non è abbastanza considerato, che è quello della situazione concreta in cui noi leggiamo. Sappiamo che ci sono alcune differenziazioni in questo campo, per esempio si distingue la lettura lean back, rilassati all'indietro, che è la lettura abbastanza immersiva, tipica per esempio di un romanzo. Noi ci sono tante situazioni in cui rilassati all'indietro fruiamo di informazione, non solo di informazione scritta in maniera immersiva, anche quando guardiamo la televisione o un film, normalmente siamo rilassati all'indietro, e c'è invece poi la lettura o più in generale l'uso di informazioni lean forward, protesi in avanti, che in genere è più attiva quando lavoriamo per esempio a una tesi, a una tesina, a scrivere qualche cosa e quindi scriviamo e leggiamo insieme, quella che Derek De Kerkhove ha chiamato scrittura, questa unione di scrittura e di lettura. Ecco, questo lean forward è in genere molto più attivo sul testo, è un tipo di lettura molto diversa, naturalmente la nostra fantasia e la nostra immaginazione possono essere molto attivi anche nella lettura lean back, nella lettura lean forward in genere c'è una partecipazione anche a un processo di produzione di contenuti, in qualche modo c'è una forma di collaborazione tra lettore e testo che spinge anche a lavorare alla produzione di contenuti integrativi quando annotiamo, quando prendiamo appunti in genere leggiamoli in forward e anche quando guardiamo la televisione in genere siamo rilassati all'indietro quando guardiamo un programma nel momento in cui cambiamo canale prendiamo in mano il telecomando e siamo protesi in avanti siamo protesi in avanti non perché questo cambi qualcosa sul funzionamento del telecomando che funziona altrettanto bene mezzo metro o più indietro ma semplicemente perché siamo abituati a protenderci in avanti nel momento in cui siamo attivi rispetto alla ricezione di informazioni e quindi per esempio vogliamo cambiare il canale del televisore ecco già solo la differenza tra lettura lean back e lettura lean forward è una differenza rilevante che riguarda le forme i modi della lettura e ce ne sono tante altre siamo in un ambiente rumoroso siamo in un ambiente silenzioso ascoltiamo musica mentre leggiamo quali altre operazioni facciamo mentre leggiamo quanto ci distrae oggi per esempio uno smartphone nel momento in cui stiamo leggendo un libro ecco queste sono tutte questioni che riguardano la sfera dell'analisi del modo concreto in cui leggiamo dei testi che sono un po' a volte messe un po' in ombra da sono meno indagate diciamo di quanto forse non meriterebbero e anche qui il discorso potrebbe proseguire per esempio quanto influisce sulla nostra lettura la connotazione che il testo può avere in base a chi ce l'ha regalato consigliato un testo che ci ha regalato una persona a cui teniamo probabilmente lo leggiamo con uno stile di lettura con un tipo di attenzione con un atteggiamento mentale diverso rispetto a quello di un testo che leggiamo per esempio perché è in un programma d'esame ovviamente parlare di queste differenze non è banale perché noi sappiamo che tutte le volte che entrano in qualche modo degli elementi psicologici nell'indagine la cosa è problematica anzi molto spesso tendiamo un pochino a non facciamo dello psicologismo tendiamo un po' a ritrarci tutte le volte che entrano questioni che sono molto difficilmente misurabili che è abbastanza complicato riportare un ambito di indagini quantitative d'altro canto sappiamo anche proprio dagli studi sulla neurologia della lettura che questi aspetti sono estremamente importanti e in qualche misura sono anche forse oggi analizzabili o misurabili anche se si tratta di tipologie di analisi e di misura che richiedono strumenti sia tecnici tecnologici sia concettuali che forse in alcuni casi ancora non abbiamo diciamo ecco lo scopo di questa introduzione era proprio quello un pochino di far capire quanto possa essere complicato cercare di analizzare i modi le forme in cui leggiamo abbiamo parlato prima della questione del rapporto tra lettura su carta e lettura digitale e ho ricordato che la questione è molto più articolata complessa sfaccettata di quanto la contrapposizione tradizionale tra carta e digitale sembrerebbe suggerire il lavoro su libri e lettori digitali per tanto tempo si è concentrato soprattutto su due aspetti quello dei dispositivi digitali di lettura ho già accennato prima al fatto che è una questione rilevante e che la gamma dei dispositivi digitali di lettura è molto ampia diversificata è quello delle forme della testualità perché il digitale naturalmente permette di lavorare su forme di testualità nuove che vanno dagli ipertesti ai testi multicodicali e quindi testi che integrano codici comunicativi diversi testo scritto ma anche immagini video suoni e al lavoro sull'interazione già l'ipertestualità è una forma di organizzazione interattiva di un testo si presuppone una collaborazione del lettore ci sono anche tante altre forme di possibile interazione con il testo fino ad arrivare a forme di testualità che sono al confine che non sappiamo bene come considerare un un adventure testuale per esempio per citare una tipologia di videogiochi che era abbastanza diffusa nella seconda metà degli anni 80 e all'inizio degli anni 90 un adventure testuale cioè questi giochi interattivi che in qualche modo riprendevano la forma dei vecchi libri game è un gioco o è un testo può essere considerata in qualche modo un'evoluzione della forma libro ecco molto lavoro molta riflessione c'è stata sulle forme sulle nuove forme di testualità digitale questa riflessione ha riguardato gli ipertesti ha riguardato i testi multico di cali ha riguardato le molte sperimentazioni che sono state fatte con quelli che possiamo etichettare come libri aumentati enhanced books libri che appunto aggiungevano all'elemento testuale tradizionale alcuni elementi nuovi legati all'ecosistema digitale e credo che la maggior parte delle persone che hanno lavorato in questi campi negli anni a partire dagli anni in realtà a partire addirittura dagli anni 70 ma diciamo negli anni 80 negli anni 90 si aspettavano che l'evoluzione più forte sul piano delle novità introdotte dal digitale fosse proprio nelle forme della testualità cioè ci si aspettava un cambiamento abbastanza radicale delle forme della testualità nel nuovo ecosistema digitale ora badate questo cambiamento c'è stato ci sono moltissime nuove forme di testualità che abbiamo imparato a conoscere con cui abbiamo imparato a lavorare che leggiamo quotidianamente o produciamo quotidianamente nell'ecosistema digitale ma per lo più queste forme di testualità non sono legate alla forma libro per lo più la testualità digitale che pratichiamo oggi è una testualità breve frammentata che va dalle mail ai messaggi whatsapp o comunque ai messaggi brevi che passa attraverso i social network i messaggi di stato dei social network per esempio i tweet che tocca anche forma scusate non ho abbassato il telefonino e lo faccio subito saremo indisturbati ecco fatto dicevo appunto prevalentemente le forme della testualità nel mondo digitale sono forme di testualità breve frammentata dai messaggini ai messaggi di stato sui social network i post di un blog gli articoli di un sito sono per lo più anche quando andiamo fuori dall'ambito della stretta testualità alfabetica per esempio non so le storie instagram i filmati tik tok sono tutte forme di organizzazione breve di contenuti brevi frammentati la forma libro è rimasta abbastanza fuori da questa rivoluzione digitale e sicuramente anche se ci sono stati tanti esperimenti interessanti che sono stati studiati libri aumentati libri ipertestuali gli ipertesti online naturalmente appunto ce ne sono il web è un grande ipertesto ma la forma del libro ipertestuale non si è particolarmente affermata nel 1999 in un famoso articolo Robert D'Arton uno storico famoso è anche studioso attento dei fenomeni legati al libro e alla lettura è stato anche il direttore della biblioteca dell'università di Harvard Robert D'Arton aveva proposto un modello di saggio accademico completamente nuovo innovativo a strati in cui la documentazione le fonti potevano costituire degli strati dell'opera il testo vero e proprio del libro era un altro strato ci potevano essere degli strati di sintesi o di presentazione degli strati esplicitamente didattici in cui adattare l'opera a un uso didattico questa idea del libro piramidale a strati che va da una sintesi veloce al testo a tutta la documentazione a corredo del testo in realtà prodotti editoriali di ricerca organizzati in questo modo ne sono usciti molto pochi sono state delle sperimentazioni che si sono rivelate anche molto complicate da produrre e da gestire anche se estremamente interessanti lo stesso vale per i libri aumentati in tanti altri settori ci sono state case editrici multimediali o digitali che hanno lavorato moltissimo in questo campo dalla Voyager di Bob Stein che già negli anni settanta che già diciamo tra gli anni 80 e gli anni 90 ha prodotto degli esperimenti molto molto interessanti e ricordo qui per esempio una versione digitale di un libro di Marvin Minsky un autore famoso uno dei massimi teorici dell'intelligenza artificiale L'Io della Mente The Man's Eye che scusate La Società della Mente L'Io della Mente è un libro di Hofstetter La Società della Mente The Society of the Mind è il libro di Marvin Minsky Voyager ne ha fatto una bellissima versione digitale in cui Minsky passeggia tra le pagine del suo libro entra ogni tanto dal bordo della pagina a commentare un passo ad approfondire e sono stati attentissimi a costruire questo libro aumentato in una forma in cui l'autore dentro il testo non disturba la lettura Minsky entra quando finisce un ragionamento quando finisce un capitolo quando c'è un'illustrazione da spiegare e è come se hanno veramente studiato con attenzione per far entrare a passeggio l'autore nel suo libro nei momenti in cui semmai ci sarebbe un calo di attenzione nella lettura è costruito molto bene questo libro che è un esempio di grande interesse di editoria digitale ma appunto sono esempi molto isolati la touch press in anni più recenti sull'iPad ha fatto tante altre sperimentazioni interessanti compreso un'edizione che meriterebbe nel parlare di edizioni critiche di edizioni digitali merita sicuramente un'analisi specifica meriterebbe che un'edizione della terra desolata del Westland di Elliot è un'edizione costruita sfruttando tante caratteristiche diverse del digitale c'è la recitazione che va dalla recitazione teatrale all'uso di ordini diversi di note di annotazioni alla possibilità di confrontare i manoscritti originali con il testo restituito insomma un lavoro abbastanza complesso uno dei tanti esempi che conosciamo e che studierete di edizioni digitali ma anche in questo caso si tratta di sperimentazioni tutto sommato abbastanza locali parziali e senza un enorme successo basti pensare al fatto che il 99,9% dei libri elettronici che potete comprare oggi su Amazon per il Kindle sono semplicemente delle versioni digitali dei testi a stampa spesso con problemi di impaginazione digitale di tipografia digitale non banali questo aprirebbe un altro capitolo ma per capirci il il digitale nella forma la testualità digitale nella forma di libri aumentati non ha affatto avuto quel successo che ci si aspettava 15, 20, 30 anni fa possiamo allora concluderne che il libro è rimasto un po' immune dagli effetti dell'ecosistema digitale che è rimasto una specie di isola analogica in un mare di forme diverse di testualità digitale in realtà io credo che non sia così e che lo si possa capire se andiamo proprio a guardare l'altro versante cioè il versante del lettore la mia impressione non solo la mia è che se le forme di organizzazione di quella particolare tipologia di testo che è un libro non sono cambiate poi così tanto se continuiamo prevalentemente a scrivere e leggere libri lineari fatti soprattutto di testo il modo in cui leggiamo questi libri è cambiato il fatto che il lettore oggi abbia a disposizione in ogni momento lo smartphone il tablet il computer per andare per esempio a cercare approfondimenti o chiarimenti sul libro che sta leggendo e questo fatto non è privo di conseguenze diciamo che se i libri aumentati non hanno avuto un enorme successo la lettura aumentata da parte dei lettori anche quando si legge tradizionalmente su carta è invece largamente praticata troviamo riferimento al nome di un personaggio storico andiamo su wikipedia a vedere chi era troviamo riferimento a un luogo e andiamo a cercare le immagini o andiamo a guardare la mappa c'è un riferimento a una musica e l'andiamo ad ascoltare su spotify cioè il lavoro di integrazione e approfondimento dei contenuti da parte del lettore è qualcosa che ha cambiato abbastanza è cambiato abbastanza radicalmente con il digitale naturalmente il lettore era attivo anche prima leggere un libro in una biblioteca voleva dire in continuazione andare a esplorare rimandi chiedere di poter leggere i libri citati in nota o in bibliografia appuntarsi riferimenti ad altri libri e qui c'è il collegamento con la dimensione dell'intertestualità di cui parlerò tra un attimo il lettore era attivo anche prima sul testo ma non c'è dubbio che Google lo schermo dello smartphone lo schermo del computer accanto la possibilità in ogni momento di cercare approfondimenti anche di tipologie molto diverse l'una dall'altra questa è una possibilità che il digitale ha riplasmato potenziando enormemente quello che il lettore può fare per integrare e approfondire il libro allora se noi proviamo a confrontare e io condivido un momento con voi una slide se noi proviamo a confrontare l'idea di libro aumentato con l'idea di lettura aumentata ci accorgiamo che la lettura aumentata è probabilmente molto più praticata e diffusa del libro aumentato qui la slide sintetizza alcune differenze di base tra libro aumentato e lettura aumentata il libro aumentato è opera dell'autore o dell'editore o di un gruppo autoriale editoriale di una collaborazione autoriale editoriale a una realizzazione e fruizione che non sono banali una delle cose che abbiamo imparato una delle lezioni che abbiamo avuto da esperienze anche di estremo interesse ripeto come quelle della Voyager o quella della Touch Press sono che costa molto produrre dei buoni libri aumentati e richiede un tipo di collaborazione probabilmente un lavoro d'equipe molto maggiore rispetto alla produzione di un libro tradizionale dal punto di vista autoriale un libro tradizionale diciamo normalmente scritto da un autore un libro aumentato è molto più simile a un film diciamo da un certo punto di vista richiede una forma di regia multimediale molto più complessa con competenze molto più diversificate ce ne rendiamo conto per esempio andando a guardare alcuni esempi che ci sono nel campo dell'editoria scolastica dove si è cercato comprensibilmente di esplorare questa strada anche lì con risultati poi semmai li potremmo discutere abbastanza parziali senza un enorme successo il produrre dei buoni libri aumentati costa potrei aggiungere qui che non è banale farlo costa non è neanche banalissimo fluirlo cioè le competenze anche dal lato del lettore per poter utilizzare al meglio un libro aumentato un enhanced book sono competenze non banali di capacità di integrazione anche a livello appunto del lettore di contenuti legati a codici comunicativi diversi a forme di interazione con il testo diversa quindi non è banale farlo costa sono ancora poco diffusi come abbiamo detto e la fruizione del libro aumentato è prevalentemente individuale è il singolo lettore che si trova davanti a questo tipo di testo mentre la lettura aumentata questa pratica abbiamo detto di fatto molto diffusa anche se di nuovo poco studiata dal lato del lettore ha delle caratteristiche completamente diverse questo aumento è ad opera del lettore e qui si pone un tema su cui tornerò tra un attimo quanto è arbitraria questo lavoro di integrazione di allargamento di ampliamento della lettura fatto dal lato del lettore cioè quanto è legata a interessi curiosità conoscenze pregresse individuali e quanto è legata a triggers spunti esplicitamente presenti nel libro questo è un tema che è già stato discusso in tanti contesti per esempio rispetto al tema dell'intertestualità e qui naturalmente il discorso si allarga ulteriormente la lettura aumentata nelle forme in cui è normalmente praticata è abbastanza facile e immediata perché utilizziamo strumenti che siamo già abituati a utilizzare nel nuovo ecosistema digitale dallo smartphone con strumenti di ricerca come google sostanzialmente non ha costi ulteriori il libro aumentato come abbiamo detto è parecchio costoso in questo caso noi usiamo strumenti che abbiamo già a disposizione usiamo ogni giorno per mille altre cose ed è anche un'attività sociale che adatta a gruppi di lettura biblioteche scolastiche cioè a tante situazioni in cui questa integrazione approfondimento dei temi del testo attraverso attività dei lettori possono anche essere svolte in contesti di istruzione o in contesti sociali ecco queste questa schema di differenze tra libro aumentato e lettura aumentata porta secondo me suggerisce l'interesse a uno studio un po' più approfondito del tema della lettura aumentata cioè come effettivamente oggi integriamo la nostra attività di lettura utilizzando anche strumenti digitali in questi giorni in questo periodo ho fatto alcuni esperimenti anche attraverso dei gruppi di lettura per cercare di capire come si comportano lettori diversi naturalmente è ancora qualcosa a monte di un'analisi propriamente quantitativa e anche diciamo con campioni più ampi che credo sarebbe interessante auspicabile ripeto esiste qualcosa ma non esiste molto esiste quasi niente in realtà le indagini di questo tipo come si comportano tipologie diverse di lettori messe davanti a un libro con il telefonino accanto come normalmente siamo tutti noi ho provato appunto a fare un po' di esperimenti con dei gruppi di lettura cercando di vedere se c'erano delle tipologie di comportamenti individuali e in effetti ci sono delle tipologie cioè ci sono lettori che non amano interrompere la lettura con approfondimenti soprattutto se si tratta naturalmente di tipologie di testi immersivi narrativi in questi casi ci sono i lettori che non amano la distrazione quella che è percepita come una distrazione di una ricerca online e la fanno solo in situazioni in cui la comprensione del testo è pregiudicata dall'assenza di alcune informazioni che devono essere andate a cercare che occorre cercare in rete e invece ci sono lettori elettrici naturalmente anzi soprattutto elettrici sappiamo che le donne leggono molto più degli uomini ci sono lettrici e lettori che invece oggi usano lo smartphone un po' come viene usato quando si guarda una serie televisiva o un film è un ambito in cui si parla proprio la teorizzazione del concetto di second screen di secondo schermo lo smartphone o il tablet sono considerati dei second screen che usiamo quando guardiamo una serie televisiva sia per cercare informazioni integrative aggiuntive sia per magari discutere in situazioni di discussione sui social della serie televisiva per esempio che stiamo seguendo questo tipo di usi lo smartphone come second screen è abbastanza diffuso anche quando leggiamo un libro quindi lo smartphone come second page potremmo dire seconda pagina e ci sono lettori che hanno invece una fortissima tendenza all'uso abbastanza continuo di questi strumenti come strumenti di approfondimento probabilmente questo corrisponde a degli stili di lettura diversi che magari c'erano anche prima dell'avvento del digitale lettori che preferiscono concentrarsi sulla lettura del libro senza distrazioni e lettori per i quali invece il libro è sempre un po' un pretesto per andare ad approfondire a cercare informazioni integrative aggiuntive in ogni caso questa differenza è una differenza abbastanza marcata tra due stili di lettura diversi che sono totalmente trasversali rispetto all'età o al sesso visto abbiamo visto per quanto su numeri relativamente piccoli ma con diverse persone che hanno diciamo partecipato a questi gruppi di lettura o anche dato risposto a questionari date indicazioni sembra che ci siano effettivamente degli stili di lettura molto diversi anche davanti allo stesso libro e naturalmente è anche interessante investigare quali sono le cose che vengono approfondite di più dicevo prima che c'è un legame con il tema dell'intertestualità noi sappiamo da tanto tempo diciamo dai lavori della Christeva Subbachtim poi tutta la discussione sul tema dell'intertestualità che sappiamo che i testi sono in dialogo continuo fra di loro e sappiamo che le forme dell'intertestualità sono diverse abbiamo dell'intertestualità esplicita dei rimandi espliciti da un testo all'altro e abbiamo forme di intertestualità implicita o addirittura introdotte in qualche modo dal lettore che coglie spunti di un testo che hanno significato o in qualche modo suscitano collegamenti per quel particolare lettore ma magari non per altri ecco anche qui provando a lavorare un pochino diciamo sperimentalmente con lettori diversi su uno stesso libro per andare a vedere dove quali passi del libro sollecitano solleticano la curiosità di approfondimento ci si accorge che ci sono alcuni passi che in quasi tutti i lettori suscitano curiosità di approfondimento cioè ci sono dei rimandi dei trigger espliciti nel testo che non sono soltanto naturalmente rimandi ad altri testi ma possono essere tante tipologie di riferimenti diversi appunto un personaggio storico un luogo questo suscita la presenza di riferimenti di questo tipo suscita in molti lettori lo stesso passo del libro lo stesso punto del libro funziona come attivatore di questo comportamento di approfondimento in rete per molti lettori diversi e poi naturalmente ci sono invece situazioni in cui passi spunti che per la maggior parte dei lettori non hanno questa funzione o questa capacità di rimando immediato verso l'esterno per alcuni lettori per motivi di associazioni personali viene in mente magari appunto un altro letturo un altro libro non c'è un rimando esplicito ma certi passi possono comunque sollecitare un approfondimento esterno e la mia impressione diciamo abbiamo provato appunto a costruire delle tabelle chiedendo a persone diverse davanti allo stesso libro quando è che vai a cercare qualcosa in rete e direi che in una metà dei casi abbiamo questi comportamenti che sono legati a trigger ad attivatori molto espliciti presenti nel testo e circa un'altra metà dei casi in cui invece l'attivatore è diciamo significativo solo per la singola per una singola per un singolo lettore o per una singola lettrice ripeto queste sono cose che sono relativamente poco studiate ma sono degli aspetti estremamente interessanti che si ricollegano in qualche modo a tutto il discorso sul ruolo del lettore su come il testo stesso presuppone lettori e comportamenti di lettura il lettore in fabula oggi è un lettore è una lettrice che ha questa disponibilità di strumenti di lavoro online e molto spesso molto rapidamente c'è anche questa tendenza a esplorare questi lavori questa possibilità di approfondimento online abbiamo esplorato questo tema della lettura aumentata anche attraverso alcuni progetti che qui come Forum del Libro che ha lavorato su alcuni progetti Erasmus europei il Forum del Libro è un'associazione che è credo una delle poche associazioni totalmente trasversali rispetto ai vari settori della filiera del libro e della lettura per cui mette insieme editori mette insieme bibliotecari librai insegnanti diciamo docenti universitari che si occupano di questo campo in maniera abbastanza trasversale e come Forum del Libro abbiamo partecipato a un progetto europeo che si chiama si chiamava perché è un progetto che si è chiuso un paio di anni fa The Living Book che era proprio una sperimentazione delle possibilità della lettura aumentata per cercare di avvicinare alla lettura quindi con una funzione di promozione della lettura verso il mondo in particolare della scuola e delle fasce di età più giovani e i risultati di questo lavoro hanno portato a delle linee guida io condivido di nuovo un secondo con voi lo schermo per farvi vedere il sito del progetto Living Book l'indirizzo è The Living Book punto EU essendo un progetto europeo ha un indirizzo un indirizzo EU e chi volesse in qualche modo approfondire questo tema può trovare in questo sito le linee guida del progetto che ci sono in varie lingue compreso l'italiano dalla si può cambiare la lingua da qui su e anche parecchi materiali compresi dei corsi sulla metodologia qui l'obiettivo era quello di capire se è possibile sfruttare all'indietro questa tendenza è approfondire ricercare lavorare online su temi che sono legati a un libro che si sta leggendo se si poteva utilizzare questo come strumento per partire da attività di approfondimento di interessi personali online arrivando anche all'interesse per la lettura come strumento di approfondimento in ogni caso appunto questo ambito è un ambito che secondo me merita una decisa attenzione sia dal punto di vista di cercare di capire per esempio sempre più frequentemente io ho lavorato parecchio anche su su libri anche collegati a questo progetto per quella categoria che viene chiamata i libri young adults per giovani lettori o giovani lettrici che è una categoria estremamente una tipologia estremamente interessante di testi molto varia che sta cambiando molto rapidamente che affronta temi dalle questioni di genere a questioni che diciamo suscitano anche possibilità di approfondimento diverse da quelle tradizionali e se voi andate a guardare questo tipo di testi effettivamente ormai il testo gioca cioè l'autore è consapevole del fatto che il lettore probabilmente potrà fare e farà approfondimenti online e gioca con questa possibilità anche all'interno del testo per cui vi è capitato per esempio recentemente un libro in cui l'autore si rivolge direttamente al lettore dicendo non andate a cercare subito su google questo termine qui perché se lo fate perdete una parte della sorpresa legata a un evento della trama il verbo to google andare a cercare su google è un verbo che entra ormai anche all'interno del libro come ammiccamento a questa possibilità di approfondimento extra testuale appunto di rimando a altri contenuti online il progetto living book appunto ha dei materiali chi volesse approfondire può eventualmente farlo accenno solo al fatto che il progetto adesso in parte prosegue in un altro progetto europeo che si chiama retwinning che lavora in particolare su tandem di lettura quindi su piccoli gruppi di lettura due tre quattro persone legate all'approfondimento di interessi personali e in cui la lettura aumentata è una delle metodologie di approfondimento del libro che si sta leggendo quindi i gruppi di lettura che usano la metodologia della lettura aumentata come strumento per per approfondire e il progetto ha sviluppato per esempio una piattaforma in cui si può lavorare su questo che permette di creare o di gestire dei reading tandem dei gruppi di lettura questi sono alcuni dei gruppi di lettura e devo dire che le scuole che partecipano al progetto ma anche altre scuole stanno utilizzando abbastanza questo strumento si possono creare come vedete piattaforme diciamo finestre specifiche su singoli libri da leggere insieme e la piattaforma consente appunto di raccogliere materiali di approfondimento sul libro che si sta leggendo io entro qui per esempio in uno dei dei tandem che è dedicato a un bel libro che si chiama Zuleika apri gli occhi di Guzzeli Achina è stato pubblicato in italiano da Salani e c'è una serie russa tratta dal libro ci sono materiali e questo strumento permette di raccogliere insieme in maniera un po' come dire uniforme e sistematica materiali di approfondimento e permette anche di andare a vedere le singole persone quali temi e quali sollecitazioni approfondiscono bene il quadro che io volevo dare era soprattutto questo e come capite era centrato soprattutto su questa questione del rapporto tra l'idea di libro aumentato che è un'idea di grandi potenzialità ma anche estremamente difficile da esplorare per i motivi che abbiamo detto e anche per altri per esempio per la differenziazione proprio per il fatto che i nostri dispositivi di lettura digitali oggi sono tanto diversificati da rendere complicato trovare una sorta di minimo come un denominatore chi legge su tablet ha a disposizione la possibilità di lavorare con filmati con immagini a colori che chi legge su dispositivi di lettura inchiostro elettronico non ha e quindi un editore che volesse proporre un libro aumentato con integrazioni video si taglierebbe subito fuori una fetta di dispositivi di lettura e probabilmente anche di pubblico abituato a quei dispositivi di lettura ripeto il campo dei libri aumentati è un campo affascinante ma io credo che si svilupperà nel tempo ma lo farà con ritmi con una velocità in maniera abbastanza lenta e progressiva e molto legata allo sviluppo tecnologico dei dispositivi e dovendo fare un'estrema attenzione anche ad evitare di sovraccaricare cognitivamente di attività e di operazioni il lettore anche qui c'è una considerazione immediata che possiamo fare cioè tutte le riflessioni che c'erano state sulla letteratura ipertestuale per esempio forse tenevano un po' poco conto del fatto che il lettore che si immerge in un libro che pratica la forma di lettura immersiva che è quella tradizionale della narrativa ha poca voglia di essere sbalzato fuori dal libro per fare delle scelte si è sperimentato tanto per esempio con i cinema interattivi in cui il film poteva proseguire in modi diversi e lo spettatore aveva sul bracciolo della poltrona i pulsanti per indirizzare la prosecuzione del film in un verso o nell'altro e la maggior parte degli spettatori diceva di non apprezzare questa possibilità cioè la linearità ha un suo fascino perché consente un tipo di immersione che nel momento in cui dobbiamo fare delle scelte invece viene interrotta ci sono dei problemi legati anche allo sviluppo narrativo qui non dico niente di nuovo ma è chiaro per esempio che se io facessi una versione ipertestuale dei promessi sposi in cui a un certo punto si chiede diciamo don abbondio il lettore può scegliere tra un don abbondio pavido che è spaventato dai bravi come nella nella narrazione di Manzoni è un don abbondio coraggioso che affronta i bravi dice no io li sposo comunque e a quel punto si divaricano due personaggi che non è più possibile tenere insieme e uno dei problemi della narrativa ipertestuale è proprio l'assenza di una trama lineare cioè la difficoltà nel costruire personaggi interessanti nel momento in cui ci sono scelte diverse che possono essere fatte molto interessante andare a guardare da questo punto di vista per esempio produzioni testuali come quelle dei libri game in cui ci sono personaggi Lupo Solitario era una serie di libri game abbastanza famosi il personaggio doveva essere descritto in qualche modo e caratterizzato in modo molto forte fuori dalla parte di interazione e di scelta perché altrimenti si diciamo disgregava la forza del personaggio nel fare nelle scelte diverse che il lettore poteva operare la caratterizzazione di un personaggio è molto legata anche alle scelte che il personaggio fa ovviamente e se noi abbiamo troppe scelte davanti perdiamo completamente l'unità del personaggio la capacità di descrivere in maniera forte un personaggio da questo punto di vista tutti i tentativi di letteratura ipertestuale combinatoria che hanno un enorme interesse dal punto di vista della sperimentazione letteraria sono però legate a forme di testualità che sono molto lontane da quelle della testualità diciamo della narrativa tradizionale e richiedono dei lettori particolarmente avvertiti e anche delle tipologie di testo molto particolari per poter funzionare quindi ripeto il centro voleva essere appunto questa distinzione tra libro aumentato con queste caratteristiche affascinanti interessanti ma tutt'altro che banali molto più complicate di quanto si potesse pensare 20 o 30 anni fa molto costose e con requisiti molto forti anche lato lettore e invece questo cambiamento nelle forme della lettura e nelle pratiche della lettura aumentata che è un cambiamento che invece constatiamo già oggi indipendentemente dal fatto che si legga su carta digitale e stanno in qualche modo influenzando anche le forme della testualità ma soprattutto stanno influenzando il modo in cui il lettore oggi si rapporta a un testo la sfera delle possibilità delle possibilità d'azione del lettore è cambiata e sappiamo quanto sia rilevante considerare la sfera delle possibilità di azione del lettore nel capire anche quali sono i modi concreti in cui poi un testo viene utilizzato bene naturalmente io ho cercato di dare una presentazione molto generale di questi temi ci sarebbero tanti aspetti da approfondire spero che magari qualcuno venga anche dalle vostre osservazioni o dalle vostre domande e già che ci siamo a me interessa anche sempre sapere dai dalle diverse persone diciamo che partecipano a questi incontri quindi anche da voi se qual è il vostro stile di lettura se per esempio davanti a un romanzo avete quando incontrate un riferimento avete la curiosità di andarlo esplorare immediatamente lo mettete da parte per esplorarlo magari alla fine della lettura oppure siete uno di quei di quelle lettrici o di quei lettori molto concentrati che tendono in qualche modo a non esplorare queste possibilità di approfondimento per me è sempre diciamo anche molto interessante vedere come persone diverse vivono la loro esperienza di lettura con l'impressione appunto che ci siano molte più delle differenze molto più marcate a volte di quanto non potrebbe sembrare io comincio ringraziando poi naturalmente passo la parola non solo a Emanuela Carbet che appunto ha organizzato la serata e quindi è anche più preparata di me sull'argomento ma anche a tutti i nostri studenti del master che spero vogliano intervenire naturalmente anche a tutti quelli del pubblico io avrei tante riflessioni che mi sono venute in mente perché questa prospettiva rovesciata del lettore spesso non viene considerata è vero e mi soffermo solo su un paio di cose che hanno mi hanno colpito particolarmente ma non saranno necessariamente quelle che gli altri condivideranno la prima è stata una cosa che può sembrare davvero sotto gli occhi di tutti ma non ci avevo mai non avevo mai riflettuto e il fatto che davvero con la lettura che facciamo sui reader sugli book quindi sui device sui telefoni noi rischiamo di perdere tutte quelle tracce di lettura che invece per noi io parlo da media vista ma non solo sono così preziose cioè non avere i marginali non avere più nulla di quello che è non solo la sottolineatura ma anche tutto quello che io stessa anche studiando nei libri appuntavo insomma davvero è una prospettiva non rassicurante insomma cambierà molto anche di quello che lasciamo al futuro perché non è detto che quando facciamo un commento sul libro sia sempre una cosa strutturata noi viviamo anche recuperando commenti che sono stati fatti così da studenti da persone che fruivano di un libro in un momento e ci hanno lasciato una cosa che per noi adesso è preziosa se ci scriviamo libri sopra quindi questa era la prima riflessione la seconda è invece anche un po' una domanda provocatoria cioè non crede che io sono un po' una vecchia lettrice o vecchia e basta a questo punto non saprei ma non ci ha reso un po' pigri questo poter disporre continuamente di tutte le informazioni che vogliamo cioè un po' come davanti alla musica in streaming che puoi scegliere tutto quello che vuoi a me non mi viene mai in mente una canzone che voglio sentire perché ce ne sono troppe e così il libro cioè a me piace piace l'idea anche la sfida di rimanere sospesa un attimo di non sapere dopo cosa troverò mi piace proprio fa parte dell'idea anche un po' agonistica che io intrattengo come lettrice con il libro così rispondo anche alla domanda posta quindi non lo so è stata una formazione anche la mia in tal senso perché eravamo abituati a leggere così e non avere strumenti a disposizione se non le enciclopedie edizionali insomma era tutto più macchinoso e conveniva finire il libro almeno le risposte venivano da sé quindi ecco questi sono un po' le due cose ora io ecco passo il microfono così per movimentare un po' il dibattito grazie ancora grazie ringrazio anch'io nel frattempo mentre insomma qualcuno si prepara ad intervenire se ci sono domande anch'io avrei moltissime riflessioni da fare posso fare la mia confessione personale quindi dare il contributo diciamo autobiografico sulle abitudini di lettura e devo dire in realtà che la lettura aumentata per me costituisce un problema abbastanza serio per diciamo un'abitudine né buona né cattiva ma di avere grandi informazioni di dati con una velocità sempre più importante questo significa che a lettura di un libro è chiaro che l'abitudine è anche compulsione di cercare subito dei dati attraverso la rete è anche una grande fonte di un'enorme fonte di registrazione al punto che per la mia personale esperienza ritengo una buona abitudine per riuscire a leggere il dover allontanarmi dai dispositivi quindi creare stanze nella casa in cui il dispositivo non deve e non può entrare perché interromperebbe in continuazione la mia la mia lettura per la compulsione di aggiungere dati alla lettura e e questo tu Gino Roncaglia ne parlava anche come abitudine mentre si guardano serie televisive eccetera nella non abitudine della pandemia a frequentare ad esempio i cinema mi è capitato molto di recente andando a vedere un film qualche giorno fa di aver avuto un impulso in un cinema di controllare un dato che stavo rispetto al film cosa che naturalmente poi non ho fatto ma che era indice appunto di questa continua abitudine ad appoggiarsi alla grande possibilità di acquisire tutte le informazioni subito e in qualsiasi momento con l'estensione appunto dello smartphone o di altri dispositivi quindi questo era diciamo il mio piccolo contributo autobiografico con la raccolta di dati del professor Roncaglia mi interessa molto ma lo lancio solo se poi non ci sono altri approfondimenti più pertinenti alle questioni toccate durante questo incontro mi interesserebbe una riflessione di Gino Roncaglia sulla conservazione delle forme della testualità di cui parlava all'inizio insomma nella prima parte dell'incontro rispetto alla forma del libro quindi le forme della testualità che vediamo online citava i tweet citava le storie di Instagram eccetera ha citato anche il problema della conservazione dei formati rispetto alle sottolineature ecco questo tema mi sta molto a cuore mi viene in mente il tentativo un po' fallito diciamo della Library of Congress di conservare i tweet dall'inizio dalla fondazione di Twitter come patrimonio diciamo testuale che un soggetto conservatore come la Library of Congress doveva doveva conservare o si sentiva il dovere di conservare obiettivo fallito perché poi la Library of Congress da un certo momento in poi ha smesso di conservare i tweet perché era oggettivamente una forma di acquisizione non sostenibile per la quantità appunto di dati prodotti ecco allora una riflessione sul problema della testualità anche in relazione alla conservazione cosa dobbiamo conservare di queste forme della testualità come patrimonio culturale per le generazioni future se dobbiamo conservarlo serve la pena conservarlo e poi però soprattutto aprire il dibattito a chi vuole a chi volesse intervenire per porre delle domande delle questioni anche da da YouTube dove riporto per Gino Roncaglia dei ringraziamenti per le informazioni e gli spunti interessanti da parte di chi si sta seguendo da YouTube e naturalmente anche chi volesse intervenire qui via Webex sia in chat che in audio può senz'altro farlo buonasera anzitutto la ringrazio io non volevo fare una domanda ma più che altro una riflessione probabilmente molto ingenua e sproveduta ma io ho la sensazione che sia quando ha parlato di lettura aumentata che di libro aumentato abbia fatto riferimento a un pubblico che è in ogni caso molto specifico nel senso penso al libro aumentato come a un prodotto assolutamente di nicchia che che deve essere cercato che deve essere conosciuto a priori e probabilmente ricercato dal da un lettore molto specializzato o comunque attento all'attualità e anche quando ha parlato di lettura aumentata io ho pensato subito al pubblico della scuola dei bambini in età formativa o al pubblico dello studente insomma universitario in generale che ha un oggettivamente un aiuto enorme nella nella lettura aumentata che con cui io personalmente ho studiato insomma in questi anni ogni giorno il mio approccio è sempre stato quello di lettura aumentata e quindi io volevo chiedere se nel pubblico più ampio quello del lettore di narrativa adulto insomma il lettore tipo svincolato dalla scuola o dall'università o da una ricerca particolare di ipertestualità o comunque nella forma libro più specifica possa esistere veramente qualcosa che sia diverso da quello che lei diceva un libro che oggi può essere sostanzialmente un testo elettronico stampato o un testo elettronico non stampato fruito su un oggetto digitale ecco c'è una possibilità reale che la letteratura digitale esca anche da questa specificità di pubblico sia in senso di letteratura di lettura aumentata che di libro aumentato grazie buonasera io volevo insomma parlare di una una questione non so se poi effettivamente esula dall'argomento però parlando della lettura aumentata mi vengono in mente tutti quegli strumenti che ormai troviamo online per condividere appunto esperienze di lettura come per esempio Goodreads non so se lo conosciamo sì in cui io posso ho una sorta di libreria e segno quando ho letto quel libro e posso dare anche un mio commento molto spesso mi ritrovo commenti ad esempio su grandi classici con una stella un libro terribilmente noioso ci sono esperienze di vario tipo su internet no? e allora mi chiedo come questo però possa anche condizionare il lettore magari nello scegliere il prossimo libro che non è più una cosa che va così tanto magari dal passaparola ti consiglio questo romanzo che è bellissimo ma magari è un'esperienza online che può essere più o meno diciamo non dico corretta perché poi ognuno ha la propria esperienza però ecco da una lettura online io magari decido di non leggere Amleto perché mi dicono che è noioso ecco come il digitale o gli strumenti legati magari alla lettura aumentata in digitale possano influire anche sulla scelta comunque sulla nostra percezione di quella che è un po' tutta la letteratura grazie proseguiamo se va bene Agiloroncaglia proseguiamo con una raccolta di domande d'accordo? sì va bene sì sì poi sarà un compito duro a cercare di rispondere a tutte ma è interessante intanto sentire le domande buonasera grazie della disponibilità allora intanto rispondo alla sua domanda rispetto appunto se sono o meno un lettore che utilizza dei supporti o no insomma sicuramente una cosa che ho pensato è che dipende anche dalla complessità del testo a cui uno a cui una persona si approccia e e quindi questo mi fa pensare anche a a livello a livello di istruzione della persona che sta che si sta approcciando insomma a questo aumento della letteratura questa letteratura aumentata e e ancora un altro pensiero che mi viene è quello di quello che insomma di differenziare di fare una una distinzione innanzitutto si può cercare ad esempio una data che è una cosa ad esempio un lettore tipo sta leggendo sta leggendo un testo e non sa quando è parlano della scoperta dell'America e non sanno quando è la data della scoperta dell'America la va a cercare quello è un dato che insomma che acquisisce altra questione è quando magari una persona va a cercare delle cose un po' più complesse ma ad esempio in un testo filosofico ma anche insomma senza arrivare a testi filosofici anche insomma da vari livelli di complessità sicuramente insomma questa è una distinzione che credo che insomma che ho pensato subito e appunto e cambia anche questa seconda opzione di ricerca ad esempio appunto su un testo filosofico dipende anche chi la fa e ritorno sempre a livello di istruzione della persona ma anche la distruzione specifica se è uno studente di filosofia se è uno studente di lettere uno di ingegneria oppure se non è uno studente se non è uno studente insomma e tutto questo mi avrà anche un altro pensiero che è più che altro una paura che magari qualcuno possa capire le cose sbagliate cioè andare a cercare un'informazione e capire la cosa sbagliata e quindi magari si rischia di semplificare la complessità e magari appunto questa data persona si convince di cose che sono assolutamente assolutamente sbagliate magari anche decretando insomma la perdita di autorevolezza di un professionista invece del settore perché insomma poi in questo periodo storico soprattutto cioè si tende molto a parlare poi senza sapere effettivamente le cose proprio perché siamo supportati da tante insomma appunto da tanti supporti appunto possiamo andare a cercare informazioni ovunque oppure vedere un documentario e considerare di sapere tutto sull'argomento quando un documentario magari dura un'ora e ci sono approfondimenti che durano anni e anni io ho ritrovato insomma nel discorso che faceva riguardo il libro aumentato della difficoltà di frizione non solo per quanto riguarda le molteplici dispositivi che si possono utilizzare ma anche ovviamente su chi è il fruttore infatti ho avuto modo di creare un libro aumentato e e notavo effettivamente sostanzialmente la difficoltà era un libro aumentato relativo a una guida museale e quindi in quel in quel momento c'erano diciamo fruitori per lo più di un'età insomma più avanzata e quindi era necessario un continuo una continua assistenza da quel punto di vista quindi purtroppo sicuramente il fruttore fa la differenza anche per quel che riguarda appunto il caso invece della di quelle che sono le diciamo approfondimenti scolastici e qua mi rivolgevo a quello che diceva Fabio sia sul fatto che personalmente credo sia un vantaggio perché va appunto a approfondire un argomento e quindi può coinvolgere l'attenzione di un fruitore che può essere appunto un ragazzo dall'altro forse in alcuni casi può essere una quasi una sostituzione di quello che si va a leggere quindi a volte credo che ci sia proprio una linea sottile tra quello che viene proposto e su questo fronte anche in futuro ad esempio vedo che c'è di recente soprattutto un insomma un maggior numero di persone che ascoltano gli audiolibri io personalmente non me l'ho mai capitato e quindi per esempio la questione degli audiolibri dove si colloca cioè rispetto anche a quanto ha esposto fino ad ora se può essere una una fruizione futura del libro che sembra lontana insomma da quella tradizionale però a quanto pare ultimamente sta avendo una certa incidenza non ci sono in questo momento altre domande proprio intanto anche perché si sono accumulate se ne sono accumulate diciamo di osservazioni parecchie naturalmente io posso soltanto cercare di minimamente in molti casi rispondere o approfondire il tema degli appunti marginali della questione se paradossalmente non ci sia in digitale appunto una perdita della capacità di lavorare da questo punto di vista sul testo di lavorarci con annotazioni che è paradossale perché teoricamente naturalmente il digitale dovrebbe eliminare i limiti per esempio dei margini fisici della pagina l'osservazione famosa dell'ultimo teorema di Fermat per cui ho una dimostrazione bellissima di questa cosa ma non la posso scrivere qui perché il margine è troppo piccolo in teoria in digitale noi avremmo avuto e avremmo finalmente saputo se effettivamente fermata aveva una dimostrazione del suo teorema o della sua congettura più esattamente oppure no perché in digitale in teoria io posso agganciare a qualunque punto del testo una nota di lunghezza indefinita in realtà paradossalmente appunto questo uso dei margini in digitale soprattutto nei casi dei libri diciamo naturalmente in alcuni casi di libri di studio di lettura molto attiva io posso associare al libro commenti anche molto lunghi magari sto lavorando al computer diciamo c'è sicuramente una possibilità in alcuni casi ma nella lettura quotidiana diciamo per esempio di un testo di narrativa o di un testo di saggistica che viene letto in maniera non propriamente lavorandoci o con questi meccanismi di lavoro scrittura eccetera effettivamente le possibilità che in questo momento dai digitale sono piuttosto limitate sia dal punto di vista dei meccanismi di sottolineatura si stanno diffondendo dispositivi di lettura con gli stilo quindi che permettono di fare annotazioni simili a quelle che si farebbero a mano però appunto c'è il grosso problema dei formati e della conservazione di queste annotazioni anche qui la cosa è un po' paradossale perché in teoria e questo è stato teorizzato noi in digitale potremmo fare una cosa bellissima cioè separare le sottolineature e le annotazioni dal testo e permettere per esempio a chiunque di vedere il testo con sovrapposto lo strato delle annotazioni di qualcun altro cioè potremmo condividere le annotazioni indipendentemente dal testo mentre sul libro stampa nella tradizione diciamo del libro manoscritto e poi del libro stampa in qualche modo testo e annotazioni sono fuse in un unico oggetto fisico in digitale potrebbero essere separate quindi abbiamo una potenzialità notevole ma concretamente grossi problemi sia di tecnologie di strumenti di formati di funzionalità per cui di fatto in questo momento le annotazioni digitali sono io faccio vedere spesso adesso non ce l'ho qui sotto mano perderei tempo probabilmente a trovarla ma faccio vedere spesso una esempi famosi diciamo di testi iper annotati con colori diversi con c'è un esempio di Foster che annota una pagina di De Lillo utilizzando appunto 5-6 colori diversi matite penne questo genere di cose farle in digitale dovrebbe essere in teoria più semplice in realtà non lo è affatto appunto l'esempio se cercate Foster Wallace aveva fatto appunto un'operazione di un testo di De Lillo che è pazzesca se uno la guarda e ci sono tanti casi classici che potrebbero essere citati appunto di lavoro di questo genere quindi siamo in una situazione in cui in teoria potremmo avere strumenti ottimi in pratica ancora oggi non li abbiamo per le annotazioni anche gli standard di annotazione in ambito un po' più accademico a me qui interessa proprio anche l'annotazione veloce non necessariamente l'annotazione di ricerca su un testo studiato filologicamente ma anche per quello che riguardano le annotazioni di ricerca lo sapete bene diciamo ci sono standard diversi strumenti diversi ma sono strumenti spesso abbastanza indipendenti l'uno dall'altro è difficile capire quali diventeranno effettivamente standard e proprio perché i sistemi di annotazione in sostanza presuppongono una sorta di sistema di georeferenziazione delle annotazioni sulle pagine e costruire sistemi di questo tipo avendo una garanzia che poi dopo i meccanismi con cui li abbiamo costruiti sono standard non è banale la marcatura è uno di questi sistemi ma anche la marcatura ha i suoi problemi anche quando è utilizzata come sistema di annotazione e soprattutto non è normalmente un sistema di annotazione veloce banale da usare per una lettura quotidiana di un libro qualunque sulla questione della pigrizia è vero che diciamo in certi casi il fatto di avere a disposizione molti strumenti può portare a una certa pigrizia interpretativa cioè si affida magari l'interpretazione alla lettura di una pagina anziché lavorarci sopra per cercare di interpretarla si va a cercare in rete come l'hanno interpretata altri questo direi che è un problema che sicuramente c'è e la moltiplicazione delle delle interpretazioni in un certo senso in rete è ancora maggiore sappiamo che è un tema quello della moltiplicazione delle interpretazioni che è un tema che è stato tanto discusso anche in epoche pre-digitali ma sicuramente è un tema rilevante anche ancor più per certi versi nel nel digitale Emanuele parlava del tema della lettura protetta e diceva che lei percepisce la necessità in qualche modo di proteggere la lettura e questo è anche questo un tema appunto rilevante quello di come utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione per approfondire in modo che non siano strumenti distrattivi di nuovo un tema che c'era anche prima che non è banale Roberto Casati ha scritto molto sulla questione della distrattività di alcuni aspetti dell'ecosistema digitale di alcune tecnologie di alcuni strumenti in particolare smartphone tablet che in qualche modo sono proprio per la loro multifunzionalità sono quasi per natura distrattivi io qui osserverei solo una cosa la protezione della lettura a due versanti la protezione da se stessi e la protezione dagli altri lo smartphone è un elemento di disturbo distrattivo perché magari mentre uno sta leggendo può o suonare il telefono che in quel caso è proprio una distrazione esplicita ma può anche venire la tentazione di fare qualcosa di slegato rispetto al libro che si sta leggendo controllo la posta controllo e queste abitudini che diventano delle specie di condizionamenti personali che portano una distrazione verso l'esterno verso qualcosa che non è direttamente legata a quello che stiamo leggendo poi c'è la questione della distrazione da sé cioè mentre io per esempio ho molto la tendenza leggendo a farmi prendere da curiosità e le curiosità che ti prendono mentre leggi sono a volte disastrose perché ti portano a esplorare catene di collegamenti uno dopo l'altro alla fine sei su qualcosa che ha poco a che fare con il libro questo io l'ho sempre avuto non è una cosa che sia nata con il digitale mi ricordo che al liceo lavoravamo sullo Zeller Mondolfo per studiare la storia della filosofia greca e diciamo talmente sono cose che sono talmente piene di rimandi ad altri libri ai frammenti dei presocratici le cose eccetera che se uno comincia a farsi prendere troppo dalla curiosità non riesce ad andare avanti nella lettura perché sono troppi possibili approfondimenti da fare in questo caso è una protezione non da forme di distrazione esterne al testo ma da quella tendenza che un lettore può avere alla curiosità dell'approfondimento del testo che però diventa in certi casi pericolosa per perché proprio perché porta a seguire catene che poi allontanano dal testo e questo ripeto è una cosa che c'era anche prima del digitale ma con il digitale credo diventi la quantità di operazioni distrattive che possono essere fatte in un caso o nell'altro è sicuramente maggiore l'altro tema della conservazione delle forme di testualità è un tema interessantissimo che riguarda tante tipologie diverse di testi e qui c'è un aspetto naturalmente per un verso è la quantità dei testi prodotti in digitale che pone il problema tipico di qualunque istituzione di conservazione cioè che cosa vale la pena conservare cosa dobbiamo cercare di conservare e cosa no forse non è sempre detto che per il fatto di avere la possibilità teorica di conservare qualcosa valga veramente la pena conservare tutto d'altro canto il fatto di avere adesso strumenti di data mining strumenti che permettono di considerare di lavorare su corpore testuali enormemente ampi in qualche modo smonta una delle argomentazioni di chi dice la conservazione deve essere molto selettiva perché si diceva se non è selettiva la conservazione ci troviamo troppo rumore oggi molto di quel rumore non è più rumore ma sono big data e quindi è teoricamente potenzialmente materia di approfondimento di lavoro e quindi in teoria c'è un interesse nel conservare molto che in passato c'era meno quindi ci sono questi due aspetti c'è poi un altro aspetto che a me sta molto a cuore nel tema della conservazione che è quello che apparentemente a volte è più complicato conservare quando siamo in digitale delle produzioni complesse rispetto a cose semplici conservare o non conservare i tweet è una scelta diciamo da fare davanti a un'enorme massa di dati testuali ma di per sé i tweet sono dati relativamente semplici se decidiamo di investire molte risorse nella conservazione di tweet sappiamo quante cose per esempio conserva con i suoi problemi l'internet archive questi meccanismi che poi si possono affidare in parte a bot conservano in maniera abbastanza semplice produzioni testuali relativamente brevi e semplici ma cosa succede quando abbiamo delle cose più complicate per esempio l'esempio che facevo prima della Voyager versione elettronica del libro di Marvin Minsky è un esempio da manuale di difficoltà di conservazione legata all'absolescenza tecnologica proprio perché quell'oggetto multimediale è un oggetto estremamente complesso che unisce testo immagini video Minsky che passeggia nelle pagine del libro utilizzando delle tecnologie che sono le tecnologie dell'epoca cioè mi pare che quel lavoro fosse del 1994 e quindi una trentina di anni fa usavano uno dei primi ambienti Mac con alcuni un formato quick time per i video che adesso non è più riconosciuto dai lettori quick time di oggi per cui anche davanti al CD-ROM di quella di quell'opera lì oggi ci vuole un enorme lavoro di ricostruzione dell'ambiente hardware magari anche di ricostruzione software diciamo dell'ambiente utilizzato per la visione la visualizzazione di quell'oggetto informativo e proprio perché l'oggetto informativo è molto complesso la conservazione diventa a sua volta complicata perché presuppone un lavoro abbastanza complesso di ricostruzione dell'ambiente hardware e software su cui quell'oggetto poteva essere utilizzato e quindi questo aspetto è preoccupante è un aspetto su cui riflettere il fatto che a volte è più complicato conservare contenuti elaborati complessi che chiaramente vale la pena conservare ma che non è affatto banale conservare proprio per la loro complessità che è legata a un'epoca precedente di evoluzione del sistema dell'ecosistema digitale poi la questione diciamo della il libro aumentato come oggetto di nicchia che si rivolge ad alcune utenze e anche la questione se diciamo questi lavori di aumento dell'operazione questa attività di aumento dell'operazione della lettura riguardi anche invece una lettura diciamo non esiste il lettore tipo ma insomma una lettura più quotidiana di un testo di narrativa ecco a me interessano esattamente gli comportamenti di lettura aumentata legati alla lettura quotidiana di testi per esempio narrativi normali cioè mi interessa in un certo senso molto di più perché io posso aspettarmi molto di più da un certo posso prevedere molto meglio come un certo tipo di lettore di alto livello lavori per esempio su un testo accademico mentre so molto meno di cosa fa il lettore che legge un'armony metropolitana e c'ha comunque accanto il suo smartphone se lo usa in qualche modo se c'è qualche tipo di attività che viene fatta anche su una lettura di narrativa di consumo comunque non particolarmente alta la mia sensazione anche appunto il lavoro che stiamo cercando un pochino anche di fare su comportamenti di lettura appunto normali diciamo se vogliamo di lettura non particolarmente alta dicono che comunque c'è un'attività di aumento della lettura abbastanza notevole anche davanti alla lettura di libri tradizionali e normali e anche qui si potrebbe inserire il tema che era venuto fuori anche nell'ultima domanda degli audiolibri che sono un'interessante testimonianza del fatto che le forme della nostra lettura sono comunque diciamo ci cambiano in mano in maniera noi sappiamo che gli audiolibri per esempio in Italia non erano mai stati particolarmente popolari mentre lo erano già ben prima del digitale in certi ecosistemi editoriali per esempio negli Stati Uniti insomma nel mondo di lingua inglese per esempio in Germania gli audiolibri erano molto presenti in Italia gli audiolibri non avevano mai sfondato mentre oggi sono diventati una realtà direi abbastanza consolidata anche in Italia e è interessante osservare che gli audiolibri sono effettivamente la forma di testualità se vogliamo che è cresciuta in proporzione di più in una situazione in cui tutti guardavano la guerra tra carte digitale e quello che è successo è che c'è stata la terza via degli audiolibri che invece ha avuto un'espansione molto maggiore e questo credo è abbastanza interessante anche riflettere su come cambia la lettura di un libro ascoltato e la lettura di un libro letto a me è capitato di ascoltare diversi audiolibri di libri che avevo letto in precedenza e mi sono sempre accorto del fatto che le cose che mi colpiscono nell'audiolibro diciamo le cose del libro che mi colpiscono quando lo ascolto sono abbastanza diverse dalle cose del libro che mi colpiscono quando invece lo leggo tradizionalmente quindi questo degli audiolibri secondo me è un altro campo di indagini molto interessante anche per capire come tra virgolette leggiamo ascoltiamo un audiolibro anche qui probabilmente lettori diversi si comportano in maniera abbastanza diversa la questione del social reading piattaforme come Goodreads Anobi naturalmente anche quello è un tema molto interessante è vero che le attività di social reading sono delle attività per certi versi come le attività di lettura aumentata sono delle attività che integrano la lettura del libro con un lavoro online in generale le attività sulle piattaforme di social reading sono un po' più specializzate cioè richiedono dei lettori abbastanza fortemente motivati lettori che vanno su Goodreads o su Anobi sono in realtà una minoranza abbastanza fortemente motivata di lettori e anche qui direi che mentre c'è moltissimo di interessante nel social reading l'idea o l'attesa o l'ipotesi che un numero molto alto di lettori affiancasse alla lettura delle attività di discussione di commento del libro su piattaforme di social reading è un'ipotesi che non si è poi così tanto concretizzata cioè le piattaforme di social reading le stanno legate a una nicchia di utenza abbastanza particolare mentre ripeto le attività di lettura aumentata mi sembrano molto più avere sfondato molto di più sono molto più le persone che hanno accanto un telefonino per approfondire o ricercare di quelle che invece attivamente vanno a recensire un libro su goodreads o a commentarlo naturalmente c'è anche il problema che si accennava della banalizzazione a volte del libro nelle recensioni o nei commenti quello forse è semplicemente l'emersione noi a volte non abbiamo idea di quanto insoddisfacenti siano da un certo punto di vista rispetto a un modello di lettore molto colto certe forme di lettura dei libri cioè di quanto sfugga di quanto siano povere per certi versi certe forme di lettura dei libri noi consideriamo la lettura di per sé un'attività molto nobile che però ripeto ci sono tante forme di lettura diverse e quando leggiamo appunto se andiamo a confrontare le stelline diciamo che c'ha per esempio l'Ulisse di Joyce rispetto a tanta letteratura di consumo ovviamente viene da mettersi le mani nei capelli ma questo direi che è una parte del gioco sulle piattaforme di social reading l'aspetto forse che può essere interessante da questo punto di vista è la differenziazione dei meccanismi di rating la maggior parte delle piattaforme di social reading o anche Amazon che è essa stessa in fondo una piattaforma di social reading per l'ampia disponibilità di recensioni commenti eccetera utilizza dei sistemi di rating come dire sostanzialmente usano tutti lo stesso sistema di rating il voto può essere dato con le stelline con i numeri ma è una specie di voto al libro in teoria sarebbero possibili sistemi di rating molto più sofisticati complessi differenziati in cui si guarda il libro da punti di vista diversi però di nuovo questo richiede un tipo di impegno da parte del lettore che non è banale e anche quello dei meccanismi di rating sulle piattaforme di social reading in generale sui siti legati al mondo del libro secondo me è un altro tema che meriterebbe riflessione cioè dobbiamo veramente tenerci solo questo meccanismo di rating il voto al libro perché è il più semplice il più banale il più facile o vale la pena di andare a cercare se è possibile costruire meccanismi di rating alternativi basati magari su altri tipi di considerazioni è stato detto giustamente che i modi in cui si sceglie di approfondire dipendono dal testo e ovviamente gli approfondimenti di un testo di saggistica sono molto diversi dagli approfondimenti di un testo di narrativa proprio come tipologia di attività cioè l'approfondimento di un testo di saggistica in genere è molto strettamente legato alla comprensione del testo e all'interesse per una parte di questo testo l'approfondimento in un testo di narrativa non è necessariamente legato alla comprensione del testo ma è molto più legato a delle curiosità però detto così è detto in una forma ancora molto vaga bisognerebbe anche qui cercare di lavorare un po' di indagine di analisi per capire come questo cambia fra l'altro l'impressione è che se noi conoscessimo un po' meglio i comportamenti del lettore davanti a tipologie diverse di testi questo probabilmente avrebbe un influsso anche sul modo in cui editorialmente possiamo proporre o produrre testi perché dal punto di vista editoriale si potrebbero cercare si potrebbe cercare di lavorare a rendere a produrre testi che in qualche modo sono più amichevoli più orientati alle possibilità di approfondimento del lettore questo ripeto in certi casi mi pare che ci siano già degli indizi in questo senso e un'ultima questione che mi ero appuntato era quella delle competenze appunto più o meno elevate del lettore e ripeto a me interessa molto il caso del lettore non specialista non con particolari competenze che legge un libro che non è un libro che di per sé diciamo sia un libro che presuppone già competenze molto alte è chiaro poi che anche nella narrativa ci sono estremi molto diversi per esempio un libro fantasy che si svolge in un universo inventato dall'autore è molto più difficile che uno vada a cercare qualcosa di specifico online mentre se leggiamo non so il pendolo di Foucault potremmo probabilmente morire di approfondimenti o anche il nome della rosa cioè libri che hanno una praticamente sono tutti intertestualità all'ennesima potenza sono tutti un gioco con l'intertestualità e se provassimo anche solo a seguire un quinto un decimo dei suggerimenti di possibile approfondimento che ci sono in un libro di quel tipo probabilmente potremmo passare il resto della nostra vita nel caso del pendolo di Foucault persi tra sette rosacrociane del seicento e del settecento ma quindi la tipologia di testo influenza molto il tipo di approfondimenti non solo le competenze del lettore e il gioco di queste due cose produce un'infinità di situazioni diverse in cui è molto difficile costruire delle sistematizzazioni ma in cui comunque in continuazione i lettori escono dal libro per andare a cercare qualcosa stimolati da quello che stanno leggendo nel libro naturalmente non ho risposto assolutamente a tutto ho cercato di però i temi erano tantissimi e in molti casi le mie risposte sono semplicemente delle segnalazioni di problemi che sarebbe interessante approfondire vedo che ci sono anche alcune domande o questioni in chat provo a guardare per mia personale esperienza dipende da tipologie di testo che ho davanti anche dal momento narrativo un testo in studio suggerisce appunto una ricerca di nuovi dati mentre un testo narrativo si sottolinea e si rimandano le ricerche alla fine del capitolo questo è un comportamento abbastanza frequente cioè si fanno degli approfondimenti ma si fanno non mentre si sta leggendo se uno è preso dalla storia non va a fare nuove ricerche il libro aumentato come le vecchie storie Bivi di Topolino che sono esempi appunto di il videogioco questo è un altro tema enorme quello dei videogiochi non l'abbiamo affrontato meriterebbe di essere affrontato i videogiochi naturalmente hanno una dimensione narrativa molto forte hanno una dimensione di costruzione di mondo molto forte e la differenza che io trovo è che sostanzialmente il videogioco mette a disposizione un mondo ma non mette a disposizione una storia una singola storia normalmente poi ci sono eccezioni ovviamente anche in questo campo e quindi il tipo di interazione con un mondo in cui ci si muove all'interno del mondo del gioco e l'obiettivo dei costruttori del videogioco è quello di costruire un mondo interessante credibile in cui ci sono magari delle quest da svolgere però non c'è strettamente una trama il tipo di attività del videogiocatore è ovviamente molto diversa dal tipo il lettore che legge un libro di narrativa è davanti a una situazione in cui c'è una storia preparata per lui nel videogioco in genere c'è un mondo preparato per il giocatore con le sue sfide le sue quest le sue caratteristiche ma non si chiede al giocatore di entrare in una singola storia e farsi trascinare da una storia poi dunque vediamo da youtube Claudia Pantanetti non c'è una differenza tra leggere su cartaceo digitale e il libro di lettura aumentata o no dipende assolutamente dal libro e questo appunto è una considerazione che mi sembra molto interessante cioè non è il tipo del supporto a determinare questo tipo di comportamenti di lettura ma è la disponibilità di strumenti e di materiali di approfondimento online quindi sia che io legga su carta sia che io legga su digitale l'ecosistema digitale è comunque lì a propormi approfondimenti o distrazioni a seconda di come li vogliamo vedere che non dipendono dal tipo di supporto che sto utilizzando i bridocei nei capitoli erano scanditi dai riferimenti ai titoli di brani musicali che andava ad ascoltare questa tendenza è una tendenza che è fortissima nella letteratura young adults di oggi che sa di rivolgersi a lettrici e lettori che hanno accanto lo smartphone Alexa e quindi per esempio aumentano moltissimo i riferimenti a brani musicali i riferimenti musicali sono molto presenti sia perché la musica è una componente molto importante nel comportamento diciamo di rapporto con contenuti informativi delle giovani generazioni ma anche perché oggi l'autore di un libro young adult sa che mettendo il riferimento a una musica sollecita nel lettore il comportamento di ascolto di quella musica e questo viene fatto molto spesso e poi c'era ah ok qui il riferimento Life is Strange e Heavy Rain sono degli esempi di videogiochi molto interessanti perché sono proprio videogiochi narrativi che sono molto vicini per certi versi alle adventure testuali della Infocom con possibilità grafiche molto diverse che sono quelle di oggi ma alle adventure testuali della Infocom degli anni 80 qui siamo più davanti alla storia Bivi e ripeto il problema che c'è in genere nella storia Bivi è quanto si riesce a tenere insieme Bivi narrativi diversi ci sono delle strategie che sono usate per cercare di costruire delle storie Bivi in cui i personaggi hanno comunque una loro solidità ma in linea generale non è per niente banale innanzitutto riguardo a come dire a quello che si diceva all'inizio della nostra tendenza a fare ricerche mentre si guardano film oppure mentre si legge io ricordo che non so se qualcuno di voi ha visto Shutter Island di Scorsese io mentre guardavo il film andai a cercare che erano gli attori autospoilerandomi poi sostanzialmente quello che succedeva nel film e diciamo che questa secondo me è comunque una tendenza una distrazione positiva cioè quando si cerca di quando si fa una ricerca comunque che parte da ad esempio da una lettura però pure collegandoci a tutto l'universo di supporti che noi abbiamo a disposizione il cellulare e il fatto che comunque questi ci tengano interconnessi mi chiedo se la possibilità o come appunto faceva riferimento prima il professore l'abitudine che abbiamo anche solamente di controllare in maniera quasi spasmodica il telefono possano alla lunga su grossa scala appiattire la capacità di concentrazione delle persone del singolo cioè quindi di conseguenza creare non so una sorta di appiattimento di distrazione continua e di conseguenza un depauperamento della nostra capacità di concentrazione e questa era sostanzialmente la domanda più che una domanda se l'impressione del processo sì naturalmente è una questione di equilibrio tra le due cose cioè anche un comportamento diciamo abbiamo detto bisogna a volte proteggersi anche da se stessi anche diciamo immaginando di eliminare le distrazioni esterne strane quindi appunto le telefonate la tentazione di andare a controllare whatsapp o la posta elettronica ma anche limitandosi ai comportamenti di approfondimento di ricerca individuali a volte bisogna anche proteggersi da se stessi e se la tendenza alla alla ricerca online è troppo continua ovviamente spezza completamente l'immersività dell'esperienza di lettura e per me è interessante il fatto che appunto lettori diversi abbiano una soglie di sopportazione se vogliamo abbastanza diverse di questo elemento di distrattività cioè c'è chi considera del tutto normale naturale comunque ogni 5 6 7 pagine anche leggendo un libro di narrativa leggero non particolarmente impegnativo la curiosità spinge ad andare a cercare qualche cosa e lo si fa senza particolari problemi e si rientra nel libro senza particolari problemi e c'è chi invece apparentemente c'è bisogno di diciamo queste uscite dal libro diventano una perdita di immersione e questi mi sembrano degli stili di lettura diversi che ripeto sarebbe interessante individuare investigare per esempio capire in lettori che hanno uno o l'altro stile di lettura poi la memorizzazione a medio termine a lungo termine se cambia qualche cosa quanto i comportamenti naturalmente moltissimo dipende di nuovo dalla tipologia dei testi che stiamo leggendo ok grazie siamo Gino Roncaglia ringraziamo anche tutti coloro che hanno seguito questa bellissima lezione che inaugura il master in informatica del testo ed edizione elettronica è stato davvero un incontro stimolante lo dimostrano le tantissime domande che sono arrivata qualcuna sta ancora arrivando e speriamo di avere Gino Roncaglia con noi a Siena quando i tempi diciamo lo permetteranno saluto ringrazio e davvero sono contenta anche che questo abbia potuto creare un'occasione di interazione anche con gli studenti del master perché ci siamo finora conosciuti solo attraverso i video e quindi questa questa occasione anche di dialogo è stata credo utile e un'esperienza piacevole per tutti quindi grazie davvero anche di questa opportunità buona serata a tutti e grazie ancora grazie grazie a voi buon lavoro a tutti e a tutti a presto grazie grazie a tutti